La Corte d'Appello di Potenza ha assolto perché il fatto non sussiste gli ex consiglieri regionali Giacomo Nardiello e Prospero De Franchi dall'accusa di peculato d'uso per aver utilizzato l'utenza telefonica del parlamentino lucano per conversazioni di natura personale provocando un esborso in debito per le casse dell'ente. In primo grado entrambi erano stati condannati a nove mesi dal Tribunale di Potenza. Verdetto rovesciato ora in appello. Secondo l'accusa i due imputati avevano causato un danno economico apprezzabile attraverso una condotta reiterata nel tempo caratterizzata da decine di telefonate personali nell'arco della stessa giornata. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2005 e il 2009. Il procedimento, lo ricordiamo, era scaturito da un filone dell'inchiesta che nell'aprile del 2013 aveva portato il Tribunale di Potenza a condannare con pena sospesa gli stessi Nardiello e De Franchi, l'ex consigliere Franco Mattia e l'attuale presidente del Consiglio regionale Francesco Mollica accusati di falso e truffa per aver indebitamente percepito per oltre tre anni il rimborso chilometrico spettante ai consiglieri regionali residenti fuori Potenza. Verdetto confermato dalla Corte d'Appello di Potenza ma poi annullato dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo di secondo grado a Salerno per una nuova valutazione sulle condotte dei quattro imputati.